Lo vedi a quello? Gli devi sparare. Chi è? Mio padre. Che t'ha fatto? A me niente. Sei mandato in prigione? Guglioni vanno in prigione. Ho detto che gli sparo. Dammi sti i soldi, no? Prima gli sparo e poi ti dei soldi. Ma che vuoi ammazzare? Io gli voglio solo far vedere la pistola. Sei stata in prigione? Sì. Allora sei un coglione. Che cazzo hai detto? Niente, ma che ha detto? Sta a scherzare. Corri, corri! Tu veramente vuoi sparare al tuo padre? Ma sai che vuol dire ammazzare una persona? Te li difendi. Te devi difendi. Alza le mani. Secco! Andiamo via. Guarda che il papà ti vuole bene. Tu ti vuole bene. Adesso chiudi gli occhi e pensa di galleggiare. Guarda. Guarda.